Meno espositori e visitatori, nuovi controlli introdotti a causa del Covid, la tradizione invariata di uno dei principali appuntamenti attesi dalla città. L'edizione 2021 ha sancito il ritorno della Fiera di San Nicola dopo lo stop imposto lo scorso anno a causa della pandemia. Un ritorno sul quale diverse e contrastanti sono state le opinioni dei protagonisti della Tre Giorni Pesarese. I più critici tra cittadini e ambulanti hanno sottolineato un'affluenza in calo, visibile tra i fruitori delle bancarelle, rispetto all'ultima edizione, quella del 2019. Assenze ricondotte principalmente al possesso obbligatorio del Green Pass per poter accedere, visitare o fare acquisti alla Fiera. Diverse invece le voci di altri pesaresi, turisti o espositori che, viste le incertezze iniziali e le misure di sicurezza imposte, sono comunque rimasti soddisfatti dello svolgimento della manifestazione e del pubblico che ne ha preso parte. Nelle tre giornate sono state sette in totale le sanzioni registrate per il mancato possesso della certificazione verde o per il non utilizzo della mascherina, obbligatoria su tutto il perimetro della manifestazione. Il calo di visitatori rispetto al 2019 si attesta intorno al 20%, dato confermato dal presidente di Pesaro Parcheggi, Antonello Delle Noci. Un meno 20% che è sicuramente molto più alto di quelle che sarebbero state le nostre aspettative. Un'edizione è quella della Fiera assolutamente positiva, più di 120 mila persone hanno frequentato la Fiera, 450 espositori che erano quelli che erano previsti e quindi non ci sono stati mancanze rispetto a quelli che erano gli obiettivi. I costi per gli espositori sono invariati dalle 2010, quindi dopo 11 anni di costi invariati, quelli che sono stati necessari per far fronte agli steward e alla sicurezza se li è caricati la Pesaro Parcheggi e quindi un importante impegno, un impegno che però ha dato i suoi risultati. Più di 30 persone erano contestualmente presenti come steward insieme alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, vigili del fuoco. È stato un lavoro enorme fatto dalla prefettura di coordinamento, però ecco devo dire che i risultati sono stati eccellenti. In più di 2000 verifiche fatte, quindi un campione importante e direi piuttosto esaustivo, ecco che allora solo due multe nella giornata di venerdì e cinque nella giornata di domenica con più di 1000 controlli fatti. Nella giornata di sabato la Fiera di San Nicola ha ospitato anche il camper dell'area Vasta 1 per offrire la possibilità ai fruitori della Fiera di vaccinarsi contro il Covid senza prenotazione. Circa una quarantina le somministrazioni di Moderna e Johnson & Johnson effettuate dai medici Asur alle spalle della palla di pomodoro, in un'area allestita insieme alla Protezione Civile e alla Croce Rossa. Adesioni inferiori in ogni caso rispetto a quelle raccolte qualche settimana fa, quando durante Candele sotto le stelle il camper si era fermato per la prima volta in Piazzale della Libertà. A rimanere invariati nei tre giorni di Fiera sono stati invece i numeri dei tamponi eseguiti nelle farmacie. Le numerose richieste pervenute hanno fatto esaurire le prenotazioni in diversi presidi comunali della città, ampliando anche a turni serali il lavoro dei farmacisti.